Ciao, sono Simone Maiocchi e sono un formatore di WeMake. Nelle giornate del 1 e del 3 dicembre abbiamo organizzato un workshop per costruire uno oscilloscopio digitale. Abbiamo scelto di offrirvi questo workshop per due motivi. Uno, perché costruire uno oscilloscopio è sicuramente un'attività interessante, anche perché lo strumento che riusciremo a realizzare è effettivamente uno strumento valido, capace di realizzare delle misurazioni con una buona precisione, e capace di visualizzare le forme d'onda che sono alla base di quello che può essere un processo di messa a punto di un circuito elettronico. Poi quale altro vantaggio abbiamo? Imparando a costruire questo oscilloscopio digitale in scatola di montaggio impareremo anche a saldare i componenti, per cui impareremo a riconoscere la resistenza, i condensatori e quindi riusciremo anche a diventare dei veri maker, anche perché un vero maker deve sapere non solo realizzare con le tecnologie di digital fabrication, ma dovrebbe anche saper costruire un circuito elettronico. Quindi noi abbiamo selezionato questa scatola di montaggio, che è di produzione cinese, ma è comunque realizzata con un'ottima qualità, e come vedete la parte più difficile, che sono i componenti realizzati in SMD, quindi con la tecnologia di saldatura diretta sulla basetta stampata con piedini molto piccoli, sono già tutti fissati. Potremmo quindi semplicemente provvedere al montaggio di resistenze, condensatori, condensatori elettrolitici, transistor, connettori e alla fine otterremo un prodotto che assomiglia a questo, anzi sarà sicuramente come questo, e quindi avrete non solo imparato a saldare, a riconoscere i componenti, a capire quali sono i valori che riportano su ciascun singolo package, ma avrete alla fine anche ottenuto quello che è la cosa secondo me più importante, ovvero sarete riusciti a realizzare uno strumento che è questo oscilloscopio. Vi attendiamo quindi l'1 e il 3 dicembre dalle 19 alle 21, potete trovare tutti i dettagli sul costo di questo workshop, che comprende fra l'altro anche il kit, all'indirizzo www.wemake.cc. Vi aspettiamo numerosi.